è la situazione attuale va bene quella che vedete tutta in superficie è vietata la svolta in sinistra da chi viene dalla tangenziale per andare sotto il fenomeno questa che è la nuova il nuovo ingombro il nuovo progetto questo che vedete il rosso con le doppie linee è il sottopassaggio quindi da qui comincerà a scendere andrà sotto e lo stesso di qua con due corsie per ogni senso di marcia un sottopasso a quattro corsie è un incrocio regolato da semaforo si presenterà così il nuovo incrocio tra via fiorentina viale amendole viale don minzoni secondo il progetto che ha in cantiere l'amministrazione comunale di arezzo niente rotatoria dunque ma un sottopasso dove confluirà la tangenziale ulteriore novità il ripristino della svolta a sinistra per chi proviene da viale amendole viale don minzoni oggi inibita per girare a sinistra tu hai queste altre due corsie superficie dove è possibile la svolta in destra slacciata perché è una doppia corsia e da qui si può andare o a dritto per chi sbaglia perché ci potrebbe essere anche qualcuno quindi ci rimane un semaforo ci rimane un semaforo anche perché questo traffico qui c'è e chi vuole svoltare aspetta il suo turno e gira prima di decidere che questa era la soluzione ottimale e quindi ripercorrere una mia vecchia idea si sono fatte delle simulazioni numeriche che hanno dimostrato che una rotatoria avrebbe dato livelli di servizio inferiori quindi incolonamenti maggiori oltre al fatto che la rotatoria necessariamente comporta un maggior uso di suolo quindi un coinvolgimento dei terreni e delle proprietà circostanti maggiore di quanto non consenta questa soluzione e questo a scapito sia delle proprietà private sarebbe stato sia soprattutto nel campo scuola togliendogli una buona parte di possibilità di sosta che è poi il destino finale di quell'area a servizio di Arezzo Fieri Congressi una soluzione secondo me interessante che risolverà quasi definitivamente i temi che riguardano la tangenziale dico quasi definitivamente perché come sapete la tangenziale ormai svolge un ruolo importantissimo nella nostra distribuzione di traffico e in assenza della variante la 71 svolge anche un ruolo di infrastruttura extracomunale che potremo migliorare solo completando la chiusura di questo anello tangenziale nel settore nord-est I costi sono circa 2 milioni e mezzo di euro, i tempi di esecuzione dovrebbero essere intorno a un anno e i lavori dovrebbero iniziare se tutto va bene perché anche qui siamo legati a un finanziamento ministeriale che per il quale stiamo aspettando conferma dovrebbero iniziare per i primi del 2018